Il Grazie. 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 Grazie a tutti. Bravo! Stop! 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 Il est touché, il est touché ! Il est touché ! Sì, sì? No, no, no! Tu si, tu si la, tu si! Basta, basta, basta! Karim, attenzione! Vedi, vedi, vedi. Vedi, vedi, vedi! Vedi, vedi! Vai! Vedi, vedi, vedi! Vedi, vedi! Karim, attorni, distosti! Vedi, vedi, vedi! Svegli un po' a piezzi, papà papà! 2-2-1, 1-2-2-1, vieni! Svegli un po' a derrière! Si sentez! Réto! Carim! Svegli un po' a piezzi, lave le mappi! Sa trezza, papà papà! Réto! Réto! Vai e il lo s'intico! non ma conto scuola cara alta claro car blus Ashley blusas fermo e Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Grazie a tutti.